Entrano nel supermercato con il volto coperto, puntano la pistola contro la cassiera, arraffano il registratore di casse e fugono a bordo di uno scooter. Rapina a mano armata al supermercato DOC di Viale Belgio nel quartiere Bozzano intorno alle 19.45. Ad agire due giovani che con il volto coperto dalle sciarpe sono entrati dopo aver lasciato lo scooter all'esterno del supermercato, hanno minacciato la cassiera, una ragazza appena 22enne, e hanno letteralmente sradicato la cassa dal suo alloggio, portandola via e fuggendo per le strade del quartiere. All'interno solo 150 euro, le casse erano infatti già state svuotate del denaro dai dipendenti in vista della chiusura serale. Al momento all'interno del negozio c'erano pochi clienti, alcuni dei quali non si sarebbero neanche accorti di nulla. Sul posto avvisati dai dipendenti in carabinieri che hanno raccolto le testimonianze della cassiera sotto sciocche in lacrime e dei clienti. I militari dell'arma hanno anche visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza puntate proprio all'entrata del supermercato e starebbero valutando le piste da battere.